Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta broccoli salsiccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta brisè, broccoli lessati, salsiccia senza budello, olio, provola a pezzetti, uova, latte, sale e pepe. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la provola ed azionare il bimbi per 3 secondi a velocità 6. Mettere da parte, senza lavare il boccale, mettere l'olio, la salsiccia ed azionare il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Nel frattempo in una ciotolina sbattere le uova con il latte, il sale ed il pepe. La salsiccia è pronta, comporre la torta. Mettere i broccoli. Mettere la salsiccia. Versare il composto di uova e il formaggio. Chiudere i bordi. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Torta, broccoli e salsiccia. Grazie e alla prossima ricetta. Materia salsiccia. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.